In una cornice d'eccezione si è tenuto oggi un torneo di mini golf che ha messo in palio prodotti sportivi ma anche enogastronomici perché l'evento in questione rientra nel cartellone di Oltre il Giardino, Kermess del Giardino Buonamici. Nel programma, che certo non lascia i pretesi in modo di annoiarsi, va fiero anche l'assessore provinciale Antonio Napolitano che ha sottolineato come sia stato intenso l'impegno della provincia nel presentare questa ultima edizione. Per l'ultima volta abbiamo voluto tenere aperto il giardino, in questi anni la provincia lo ha fatto, sono risultati eccezionali e anche quest'anno in molti sacrifici abbiamo dato il via a questo cartellone per dare una continuità nella speranza che non ci sia un'interruzione di questa manifestazione e quindi anche quest'anno in miniatura ma ripercorriamo un po' tutto quelle che sono le nostre eccellenze. Anche nel mese di luglio quindi tante occasioni di intrattenimento per deliziare la mente e il palato. Fra gli appuntamenti enogastronomici il più atteso sicuramente di vini profumi incontra le strade con degustazioni guidate in compagnia di Ice e le strade dei vini della Federazione Toscana. Inoltre terza edizione di birra tipica, cui parteciperanno sei produttori pratesi e un filo dolce estate che in versione estiva abbina i biscotti al gelato artigianale. Oltre agli appuntamenti con il gusto, eventi turistico-sportivi, proprio come quello di questo pomeriggio, golf in giardino, giocato su un campo da mini golf prodotto con materiale di recupero o quello che si terrà sabato 12 luglio per saperne un po' di più sulla 23esima edizione della corsa Prato a Betono Village nella cornice dello 0574 Tempo di Sport. Domani sera invece spazio al cammino di Prato verso un futuro intelligente con Prato Smart e poi musica, letture divertenti, laboratori, osservazioni a testa all'insù e incursioni circensi.